Musica Appuntamento con il dottor Starbene Oggi tratteremo un tema molto molto importante La puntata si intitola SOS Bambino Ci occuperemo delle manovre di disostruzione pediatrica Con una grande e importante iniziativa Allora inizio a presentare gli ospiti Iniziamo dall'ingegner Franco Coletti Benvenuto Presidente del Chivanis Club Pescara Aternum E allora poi spiegheremo qual è il suo ruolo In questa importante iniziativa Accanto a lui abbiamo la dottoressa Maria Assunta Orzini Come vedete rappresentante della Croce Rossa Il suo ruolo è quello di referente per la formazione Per la regione Abruzzo Benvenuta Grazie, buonasera Abbiamo detto che questa è un'iniziativa molto importante Manca uno dei protagonisti Parliamo dell'Adricesta Ollus Un'iniziativa che è dedicata a tutte le persone Che ruotano intorno alle figure dei bambini Si parla quindi di insegnanti, genitori, nonni Insomma tutte quelle persone che possono trovarsi Accanto a un bambino nel momento in cui succede Una delle cose che probabilmente è molto comune Ovvero l'ostruzione delle vie aeree Allora prima di farci spiegare dai nostri protagonisti Come funziona questo corso Questo corso di formazione Quali sono le accortezze Iniziamo proprio a parlare della disostruzione In questa scada introduttiva Vediamo Nel primo soccorso le manovre di disostruzione pediatriche Sono quelle manovre atte alla liberazione delle vie aeree Di un bambino da un corpo estraneo L'ostruzione avviene quando Al momento dell'inalazione dell'oggetto nelle vie aeree Esso entra nella trachea Anziché procedere normalmente per l'esofago Sono manovre salvavite In quanto i bambini con trachea ostruita Se non aiutati Possono andare incontro ad anossia E quindi subire conseguenze gravissime Tra cui la morte La diffusione di tali manovre Dovrebbe essere quindi capillare Soprattutto tra le persone Che lavorano a contatto con i bambini Nel caso in cui un bambino Abbia ingerito qualcosa Che gli ostruisce le vie aeree Ma riesce a piangere A lamentarsi Tossire o anche a parlare È necessario non fare nulla Evitando quindi pacche O colpi La persona al suo fianco Deve limitarsi a invitare Il bambino a tossire E mantenere la posizione Che preferisce Se la dispnea persiste È consigliato avvicinare La bocca del bambino A una fonte di ossigeno E allertare comunque i soccorsi Spiegando la situazione All'operatore di emergenza Le manovre di disostruzione pediatriche Sono codificate In un algoritmo A livello internazionale Che ogni 5 anni Viene rivisto Ed eventualmente modificato A seguito degli studi effettuati E dell'esperienza Maturata dai soccorritori In Italia la diffusione Delle manovre di disostruzione Pediatrica È stata iniziata nel 2005 Da un medico Della Croce Rossa italiana Marco Squicciarini Che ha dapprima tradotto Le linee guida internazionali Ed in seguito predisposto Puscoli, poster, video E altro materiale informativo I videodidattici Sono stati anche tradotti Nella lingua italiana dei segni In lingua Braille E resi fruibili In un autolibro Per i non vedenti La Task Force Nazionale Rianimazione Cardiopolmonare BLSD Della Croce Rossa italiana Ha stilato Gli iter formativi Dei primi struttori Di manovre di disostruzione pediatrica Ed il regolamento Dei corsi Che è stato approvato Dalla commissione Pubblicato Il 25 maggio 2009 Allora il referente nazionale Ed internazionale Era il dottor Marco Squicciarini Che dopo aver fatto partire Il progetto Con gli altri colleghi medici E pediatri Ha iniziato a formare I nuovi struttori Di manovre di disostruzione pediatriche Oggi sono numerosissime Le iniziative volte A diffondere queste linee guida Anche ai non addetti ai lavori Si parla di insegnanti Genitori Familiari Perché in situazioni di ostruzione Il tempo di soccorso Ha un ruolo importantissimo E intervenire con cognizione di causa Può salvare la vita Come testimoniano migliaia di casi E allora come detto Le iniziative sono importantissime Noi parliamo proprio con il presidente Chivani Se il presidente Coletti Nasce questa esigenza Si guarda il territorio Si guarda la cronaca purtroppo E si legge Si legge quanto spesso poi Il momento non si è affrontato Nella maniera giusta E allora si mette su una squadra In questo caso raccontiamo Raccontiamo come nasce l'idea E poi la sua diffusione Certo È un progetto di service Che ovviamente guardando i dati Relative a questa problematica Viene fuori che Almeno una cinquantina di bambini In Italia Muoiono all'anno Per questo tipo di problematica Ma il dato più preoccupante È che il 30% Delle morti infantili È dovuto proprio all'ostruzione E quindi all'ingerimento Di corpi estranei Questa cosa ovviamente Ci porta a fare qualcosa Per questo problema Grazie alla collaborazione Con la Croce Rossa L'unità locale di Pescara Abbiamo messo in piedi Questo service Inizialmente con l'istituto Comprensivo Pescara 8 Di la scuola Tinozzi di Pescara Contiamo di estenderlo Ad altri istituti Il primo corso Si è tenuto la settimana scorsa Il successivo Ci sarà questo Il prossimo giovedì La competenza La professionalità Degli istruttori Della Croce Rossa È nota ovviamente Per cui abbiamo Già tante adesioni Tante richieste di adesioni Per la partecipazione A nuovi corsi Che ci proponiamo Di organizzare In un prossimo futuro Abbiamo detto Si entra nelle scuole Quindi lì davvero È molto importante Perché avete Un insieme di persone Che davvero hanno A che fare Con i bambini C'è del materiale C'è uno staff Allora la dottoressa Orsini Io qui ho soltanto Due di quelli che sono Questi sono ovviamente I materiali Che vengono rilasciati Nel corso Di questo convegno Nel caso in cui L'avete presentato E poi di questi incontri Che vengono pensati Qual è lo staff Che se ne occupa Come viene strutturato Abbiamo parlato di scuole Sì sì Dunque L'elaborazione Di questi opuscoli Nasce da uno studio Sicuramente Dall'ineguida internazionale Che vengono tradotti In protocolli Nazionali E che Croce Rossa Ha fatto propri E vengono Quindi sono stati elaborati Da uno staff nazionale Di medici E c'è una commissione Tecnica nazionale Che lavora All'esecuzione Di questi opuscoli E che fanno parte Integrante Di quello che è il processo Di quello che è il percorso Di manovre salvavite pediatriche Quindi vengono praticamente date A supporto di tutto il corso Che tutti coloro Che hanno a che fare Con i bambini Quindi mamme Papà Nonne Babysitter Educatrici Insegnanti Seguono In un apposito Appunto Corso di formazione Certificativo Che ha una sua durata Una sua struttura In una parte teorica In una parte pratica Con rilascio Di attestato finale Quindi alla fine A compendio Di questo percorso Vengono rilasciati Questi due opuscoli Uno parla proprio Delle manovre Di rianimazione cardiopolmonare In età pediatrica L'altro È un insieme di consigli Sono le dieci regole Del sono sicuro Sono un insieme Di appunto Di regole Che sono state redatte Sulla base Di studi internazionali Per la prevenzione Della SIDS La cosiddetta Borte in culla O morte bianca E sono dei consigli Che non sono poi Tanto consigli Ma sono quasi Dei veri e propri indirizzi Perché nascono appunto Da studi internazionali Che quindi Consentono La realizzazione Di queste Di queste piccole norme Che sono delle accortezze Allora Dieci regole Regola numero uno Fai dormire Il tuo bambino A pancia in su Sì sì Perché ancora c'è qualcuno Che ha Beh ci sono stati C'è un'evoluzione Anche su questo pensiero Ricordo Mia figlia A ventun'anni Noi A ventun'anni fa La mettevamo a dormire Sulla schiena Perché così Gli studi indicavano Fosse la miglior Posizione La posizione ideale Oggi invece Proprio per un discorso Anatomico Legato Alla struttura fisica Del lattante Del neonato Si è visto Si è scoperto Che proprio per ridurre Il rischio E prevenire Quindi questo tipo Di sindrome Che è appunto La morte in culla La SIDS La posizione ideale E quella della posizione Supina Per il lattante In questo modo Si riducono Proprio i rischi Di ingestione Nelle via aeree Di quelle dell'inalazione Nelle via aeree Di quelli che sono i prodotti Che derivano invece Ritornano dall'apparato digerente Volendo proprio insistere Su questo punto Vediamo qui Sì con il bambino A pancia in su No con il bambino Su un fianco E no con il bambino A pancia in giù Perché un bambino A pancia in giù Rischia di più Di quella pancia in su Perché a ragionarci così Viene in mente No? Perché c'è proprio Un discorso legato All'anatomia Quindi al fatto Che nella posizione Prona Il bambino È maggiormente esposto Al rischio di inalazione Proprio per la sua struttura Durante i nostri corsi Noi facciamo vedere Proprio delle immagini chiare Che fanno vedere Come attraverso Una piccola animazione Queste sostanze Che provengono Dall'apparato digestivo Possono risalire E tornare E scendere Più facilmente Nell'apparato respiratorio È un discorso proprio fisico La numero due La diamo per scontata Che è evitare di fumare In gravidanza Vicino ai bambini Qua penso che nessuno Dica né A né B Numero tre Fai dormire il bambino Su materassi rigidi E tieni gli oggetti Soffici lontano Dall'est Il bambino sostanzialmente Dovrebbe stare in un posto Diciamo libero Da oggetti ingombranti Anche se poi Questi oggetti Possono essere carini Possono essere Dei giochini Però deve essere Il più libero possibile Questo lettino Deve essere una struttura Una base rigida Non affossata Quindi non ci devono essere Rischi per lui Perché qualcosa Possa tornarli sopra Durante il sonno Quindi possa ricoprirlo Il bambino stesso Non deve essere coperto Fino alla testa Ma deve essere lasciato Ecco Non incastrato nel letto Però Insomma deve avere Il suo spazio naturale Deve poter stare bene Sostanzialmente La numero cinque Farà stare male qualcuno Perché dice Non far dormire il bambino Nel letto con te Ricorda Fate dormire il bambino Nella vostra stanza Ma non nel letto Con voi Con i suoi fratelli Sì I rischi aumentano Sia se il bambino Dorme con i genitori Nello stesso letto Sia se la mamma Dorme con lui Ad esempio Il papà Sul divano Molto spesso Queste sono scelte Dettate dalla nostra Comodità O dalla nostra stanchezza Perché pensiamo Che sia più semplice Per noi Allattare il bambino E tenerlo nello stesso letto In realtà Ci sono rischi enormi Per il bambino Che invece potrebbe essere Tranquillamente allattato E poi riposto Nella sua culla O nel suo lettino A fianco ai genitori Quindi sì Nella stanza Ma non È sconsigliato Metterlo nel letto Dei genitori Sicuramente Non lo coprite eccessivamente Torniamo al concetto Di soffocamento Di soffocamento E di cattiva respirazione Nel senso che il bambino Deve poter essere Diciamo Respirare bene Quindi a volte Si vedono anche Non solo nelle culle Ma anche nei carrozzini Questi bambini chiusi Completamente In realtà C'è bisogno Comunque Che possano Diciamo Che possano respirare Arieggiarsi normalmente Se ha la febbre Scoprilo Si Se ha la febbre Lascia che la sua Il suo vestito O il suo La sua copertina Si adatta Alla sua temperatura Se la temperatura è elevata Non è necessario Aggravare Il suo status Quindi renderlo Rendergli ancora più difficile La sua situazione Facendolo sentire Ancora di più Coperto E ancora di più Inducendolo a star male La regola numero 8 dice Puoi usare il ciuccio Quando dormi Sì al ciuccio Sì Il ciuccio Dopo il primo mese Fino all'anno d'età L'utilizzo del ciuccio È stato incentivato Perché È risultato essere Un buon deterrente Per quanto riguarda Il verificarsi Di questa sindrome Il ciuccio serve Per addormentarsi Non è un gesto consolatorio Serve soltanto Per quella fase Quindi quando il bambino Poi nel sonno profondo Lo lascia andare È buona norma Allontanarlo Non reintrodurlo Però diciamo Che studi hanno dimostrato Che i bambini Che assumono il ciuccio Sono meno esposti A questi rischi Non è consigliato Usare prodotti Per il monitoraggio Del sonno E qua vediamo Ovviamente Il famoso Apparecchio Che fa sentire Se il bambino piange Oppure no Sì Mi viene da pensare Alle onde elettromagnetiche Basta? No Il senso è più che altro Legato al fatto Che la tecnologia Ci può aiutare Ma non ci può sostituire Al cento per cento Quindi bisogna Comunque Avere Porre il bambino In una posizione tale Che noi possiamo essere Comunque in grado Di controllarlo sempre Non possiamo chiuderlo In una stanza O allontanarci molto Da lui Contando Sul funzionamento Di un apparecchio Che potrebbe Avere dei problemi Come tutti gli apparecchiature Elettroniche Che quindi Anche in questo caso Devono Possono aiutarci Ma non possono sostituirci E poi Ultimo Allatta il bambino Al seno L'allattamento al seno È la cosa Sempre consigliata Per tantissimi motivi E anche In relazione Alla Diciamo Alla riduzione Dei rischi Di questa Del manifestarsi Di questa sindrome Presidente Noi abbiamo detto Abbiamo iniziato Con l'istituto comprensivo A Pescara In realtà è un inizio Perché Da un lato L'ambizione è molto più grande Dall'altra Ovviamente Ci sono le richieste Perciò adesso Quale sarà il secondo passo E soprattutto Se ci fossero Degli insegnanti Interessati Come fare Per potervi chiamare Intanto Ci possono contattare Utilizzando il nostro sito Internet Possono prendere contatto Con noi Per qualsiasi cosa Noi contiamo Di Replicare Questo corso E di aprire Di pubblicizzarlo Anche Maggiormente Con delle locandine O con tutti i mezzi Di stampa In modo da poter Raccogliere noi Adesioni E poter gestire meglio L'intero corso Perché il corso Ovviamente È strutturato In modo che Ogni istruttore Può gestire Un numero Finito di persone In questo caso Mi sembra sei Se non erro Per cui Dobbiamo ovviamente Organizzare bene Le date dei corsi Quindi contatto con noi Attraverso il sito Sicuramente Ma provvederemo noi A pubblicizzare meglio Di questi In questa occasione Abbiamo Grazie alla Dottoressa Bini Dell'Istituto Comprensivo Otto di Pescara Abbiamo raccolto Le adesioni Delle insegnanti Della scuola E loro stessi Hanno allargato Ai genitori Ovviamente Chiunque può partecipare A un corso del genere Che noi riusciamo a dare In veste gratuita A tutti quanti Per cui Esclusivo per le scuole Quindi lei ha appena detto I genitori Anche possono contattare Assolutamente Sì Assolutamente Contiamo di replicarlo In modo da poterlo Allargare a chiunque Anche perché Una cosa che riguarda Chiunque Ha a che fare con i bambini Non soltanto Le insegnanti Allora adesso L'abbiamo raccontato Sono entrati Nelle scuole Hanno fatto una lezione Insomma un corso E allora chiediamo Alla dottoressa Orsini Se ci fa vedere esattamente Quella che è la prassi Con tutti gli errori Da evitare Noi abbiamo qua Due manichini Ed è importante Sottolineare il perché Glielo facciamo dire Proprio a lei Uno è ovviamente Un neonato E un altro Un bimbo più grande Allora distinguiamo Quando parliamo di bambini Due facce di età Fondamentali Fino a un anno d'età Quindi parliamo di lattante Quindi all'isotto di 10 kg All'isotto di 75 cm di altezza E parliamo poi anche di bambino Cioè bambino da un anno in avanti Fino alla pubertà Quindi maggiore di 10 kg E maggiore di 75 cm C'è una differenza Sono entrambi bambini Ma vanno trattati in maniera differente Quando parliamo ad esempio di disostruzione Abbiamo detto prima Che le cause Diceva l'ingegnere giustamente prima Le cause ostruttive Rappresentano per il bambino La maggior rischio Di diciamo Di morte premature Quindi di arresto cardiocircolatorio Quindi Conoscere le corrette manovre Di disostruzione è importante Quando parliamo di lattante Ad esempio Quello da non fare Sicuramente è Il prendere il bambino Metterlo a testa in giù Scuoterlo per i piedi Sbatterlo Scuoterlo Nella maniera più Assurda L'altro errore più comune E che si fa spesso È quello di mettere le dita nella bocca Perché nella bocca Noi cosa possiamo fare? Possiamo spingere E quindi aumentare ulteriormente Il rischio di soffocamento del bambino Gli oggetti possono essere estratti Solo se affioranti Poi i bambini hanno una fantasia illimitata Nell'inalazione di oggetti Che vanno dalle biglie Vanno dai soldi Dalle monete Dalle spille da balia Qualsiasi oggetto piccolo Può essere introdotto facilmente Poi abbiamo i giochini E poi abbiamo il cibo Ovviamente il cibo Che non viene tagliato Nella maniera corretta Rappresenta un rischio E per quanto riguarda il bambino Possiamo dire che Tutto parte da una corretta prevenzione Infatti i nostri progetti I nostri corsi di progetto E il nostro progetto Manove salva vita pediatrica È accompagnato anche Dalla alcune informazioni Su quelle che sono Appunto queste azioni Da evitare Allora se il bambino Ha un'ostruzione parziale Quindi in qualche modo Riesce a respirare Come dicevamo Come diceva prima Abbiamo visto nel filmato Noi dobbiamo incoraggiare A tossire il bambino In questo caso Il lattante Aspettiamo Vediamo se risolve Da solo con la propria Tosse il problema Altrimenti se vediamo Che il bambino Non respira più Non tossisce Diventa sempre più scuro Prima che diventi incosciente Noi dobbiamo intervenire Come facciamo? Lo afferriamo Prendendolo nella parte dura del volto Quindi sulla mondibola Ce lo mettiamo sul nostro braccio Lo ancoriamo Perché dobbiamo Diciamo agire sempre in sicurezza Lo poniamo su un piano declive Quindi con la testa più in basso Del bacino E lo andiamo a colpire Al centro delle scapole Con forza E con via di fuga laterale In maniera tale Che attutiamo il colpo Quindi E lo faremo per cinque volte Quindi Uno Due Tre Quattro Cinque Poi cambieremo la nostra posizione Sempre in sicurezza Mantenendolo Diciamo Supino E andremo a effettuare Cinque compressioni Toraciche Quindi al centro del torace Con due dita Uno Due Tre Quattro Cinque Quindi alterveremo Queste due manovre Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Quattro Cinque Fino a quando Il bambino Non avrà espulso Questo oggetto Il latte Quello che ha in bocca Se il bambino Invece diventa Incosciente Lo poniamo a terra Chiamiamo Iuto Facciamo chiamare Il 118 Lo andiamo a Mettere in posizione Supina Controlliamo Se dal cavorale È uscito qualcosa Perché nel frattempo Noi abbiamo fatto Le nostre manovre Se non c'è uscito niente Andiamo a effettuare Cinque insufflazioni Quindi soffiamo Nella bocca E nel naso Del lattante Con la nostra bocca Cinque volte Così Dopodiché Inizieremo Le nostre manovre Di rianimazione Alternando Trenta compressioni Toraciche E due insufflazioni Con un certo ritmo Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Quindici Sedici Sette Diciannove Venti Ventuno Ventidue Ventitre Ventiquattro Venticinque Ventisette Ventisette Ventotto Ventinove Trenta E andremo Spiegato Per il bambino Che ovviamente Supera i 10 kg Supera i 75 cm In questo caso Le guide linea Sono altre Perciò A tra poco Con il dottor Starbene Seconda parte Del dottor Starbene Ce l'avamo lasciati Avevamo fatto vedere Le manovre di sostruzione Nel neonato Adesso invece La dottoressa Orzini Tornerà qui E farà vedere Quelle che invece Riguardano Il bambino Che supera I 75 cm Di altezza E i 10 kg Queste sono Le linee guida Allora Iniziamo Allora Abbiamo un bambino Che Ha un'ostruzione parziale Quindi Lo sappiamo perché Tossisce Chiede aiuto Fa fatica un po' a respirare Ma respira Allora noi Dobbiamo solo incitare A tossire Bambino Tossisci Tossisci Dai Tossisci Se vediamo che la situazione Diventa più grave Quindi se il bambino Non respira più Si porta le mani alla gola Diventa scuro in volto Prima che diventa incosciente Noi interveniamo Con le nostre Cinque pacche Pacche interscapolari Sempre lo afferriamo Sulla mandibola Lo faremo piegare Sulle nostre ginocchia Con la testa più in basso Del bacino E faremo Uno Due Tre Quattro Cinque E alterneremo E alterneremo Queste cinque pacche A cinque compressioni Sub-diaframmatiche Dal basso verso l'alto E dall'avanti Verso l'interno Uno Due Tre Quattro Cinque Di nuovo Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Quattro Cinque Se il bambino Diventa incosciente Quindi non è riuscito A espellere Questo oggetto Allora Lo poniamo a terra Delicatamente Facciamo chiamare 118 Guardiamo il cavo orale Mettiamo in lieve estensione La testa Vediamo se c'è questo oggetto Affiorante Se affiora Lo togliamo Poi andiamo a eseguire Come prima Cinque insufflazioni Nostra bocca Sulla bocca Del piccolo paziente Chiudendo il naso Quando soffiamo E spinzandolo Quando ci solleviamo Dopodiché Inizieremo subito La manovra Di rianimazione Facendo Alternando Trenta compressioni A due insufflazioni Due Quattro Cinque Sei Sette Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Quinti Sedici Sette Diciotto Diciannove Venti Venti Due Venti Tre Venti Quattro Venti Cinque Venti Sette Trentotto Venti Nove Trenta E andremo avanti Per un minuto Poi effettueremo In controllo Se gli esiti Sono ancora negativi Andremo avanti Fino a che non arrivano I soccorsi Benissimo Allora noi la facciamo Tornare a posto Cosa è importante da dire Chiamare il 118 In realtà Quello che si racconta spesso È che il genitore Davvero si trova Il genitore O insomma Un responsabile Almeno si trova In uno stato di shock È importantissimo Non perdere la calma Perché Raccontiamo quanto tempo C'è a disposizione Prima che davvero La situazione Dei generi Allora diciamo Che i primi danni Iniziano a instaurarsi Dopo il terzo Quarto minuto Di anossia Quindi di mancanza Di ossigenazione Del cervello Dal quinto minuto Avanti I danni diventano Irreversibili Quindi prima Si agisce Con competenza E meglio è Quindi bisogna Essere Diciamo Tempestivi Ma anche efficaci La chiamata Dal 118 È un evento Una cosa importante È il primo anello Della catena Della sopravvivenza Se noi non chiamiamo Non sappiamo chiamare Ci facciamo prendere Dal panico Spesso succede Che le chiamate Sono diciamo Non precise Non si dice Non si dice tutto Non si palla Si strilla Però la calma È chiaramente Qualcosa Che noi dobbiamo Riuscire a mantenere Anche se Il bambino È nostro Se l'evento È particolarmente Cruente Infatti ci hanno raccontato Più di una volta Che uno dei problemi Del centrale Nel 118 Che le persone Non sanno dire Neanche dove si trovino E quindi Non può arrivare Insomma Si dice sempre Sangue freddo Bisogna mantenere la calma E cercare di gestire la cosa Evidentemente Nel caso dello stato emotivo È più complicato Raccontiamo Qual è il ruolo Della Dricesta Ollus In questa iniziativa Sì certo La Dricesta Ha sponsorizzato Insieme al Chivanis Ha organizzato L'evento E la Dricesta L'ha sponsorizzato Quindi ha sostenuto Fortemente Tra l'altro La Presidente della Dricesta La Signora Panzino E nostra socia Tra l'altro Del Chivanis Pescara Ternum È molto sensibile A queste problematiche Tant'è che con lei Stiamo studiando Di allargare Eventualmente Anche All'intera regione Un corso Che possa In qualche In qualche modo Sostenere Queste problematiche Abbiamo raccontato Che questa iniziativa Ha a che fare Con la Dricesta Ollus Con la Croce Rossa E con il Chivanis Club Pescara Ternum È specifica Dovuta al fatto Che insomma Sono diversi Quindi sui territori Se ne possono trovare diversi Quello che non abbiamo Specificato È il ruolo E l'importanza Del Chivanis Allora Chivanis Chivanis International È un'organizzazione A livello mondiale Internazionale Che Il cui motto è Serving the Children of the Worlds Quindi Il motto in realtà Dalle origini È variato Nel senso che Nasceva come Un agglomerato di persone Che volevano fare Business insieme Per poi Poi Il motto è diventato Noi costruiamo Costruiamo Ponti Fino ad oggi Che siamo a servizio Dei bambini Abbiamo 100 anni Di storia Proprio quest'anno Ricorre il centenario Della nascita Del Chivanis È nato in America A Detroit Nel Michigan Nel 1915 Quindi ci occupiamo Principalmente Di dare una mano A tutte le problematiche Che riguardano i bambini Ovviamente Ma dove c'è bisogno Siamo sempre presenti Localmente Non è soltanto Il bambino Principalmente Il bambino Ma dove c'è bisogno Cerchiamo di arrivare Vorrei ricordare Soltanto due Dei più grossi Service internazionali Che ci hanno visto Impegnati in tutto il mondo Come Chivanis Il primo è quello Una campagna Che è stata fatta Nel 1994 Sempre affiancati Dall'Unicef Per eliminare Gli effetti devastanti Della carenza Di odio I famosi IDD Famosi IDD E effetti devastanti Che nella maggior parte Dei casi Poi diventavano Ritardi mentali A quei tempi Parlo di una ventina Di anni fa Si parlava di più Di un miliardo Di persone Che era In qualche modo A rischio Possiamo oggi Dire che L'IDD È stata completamente Debellata Grazie al supporto Che ha dato il Chivanis Insieme all'Unicef In tutto il mondo Una campagna Più recente Che stiamo ultimando E dovremmo concludere Forse entro l'anno prossimo È quella Per l'eliminazione Del tetano materno Neonatale È una cosa Che il Chivanis A livello mondiale Sta facendo Da cinque anni Ormai Sempre in collaborazione Con l'Unicef Abbiamo individuato Il vaccino Che ha un costo Irrisorio Sessanta centesimi Per poter salvare Sia la madre Che il bambino L'accordo Con l'Unicef Ci permette Di veicolare Di far In qualche modo Arrivare Questi nostri Contributi Ovunque Perché Ovviamente I posti Dove c'è bisogno Sono posti impervi Di difficile raggiungimento Quindi C'è bisogno Di un'organizzazione Che è più capillare Della nostra Abbiamo detto Ha compiuto cento anni Proprio Quest'anno Si occupava Di bambini Poi Dici non si occupa Solo di bambini Si occupa anche Di tutto quello Che c'è intorno Infatti abbiamo parlato Di mamme Abbiamo parlato Dell'ultima campagna Che è quella Proprio Per il tetano E allora Cercando di raccontare Quella che è la storia Di carattere internazionale Del Chivanis Se facciamo vedere Proprio questa campagna In un video Vediamo Pochi Sono i momenti Più gioiosi Del giorno In cui un bimbo Viene al mondo Ma in 40 paesi Una terribile malattia Traforma questa gioia In tragedia Il tetano È antico come il mondo Se ne parla Perfino nel Vecchio Testamento Come la morte Del settimo giorno È una malattia Che strappi i bambini E i loro genitori E le madri E le proprie famiglie Con crudele rapidità Tutto succede Nella prima settimana Di vita del bambino Essa insorge Quando le spore del tetano Che si trovano ovunque Nel terreno Entrano in contatto Con ferite aperte Durante il parto I neonati Muoiono di una morte straziante Sono colpiti Da convulsioni laceranti E da un'eccessiva sensibilità Alla luce Al contatto La malattia Colpisce i più poveri Tra i poveri Le popolazioni Che vivono in zone Geograficamente Difficili da raggiungere E quelle che non godono Di alcuna assistenza sanitaria Il TMN Uccide circa Cento mila madri E neonati all'anno È possibile Eliminare la malattia In tutto il mondo E far sì Che nei 40 paesi Dove il problema Ancora sussiste Migliaia e migliaia Di bambini Abbiano la possibilità Di vivere L'Unicef E il Kivanis Hanno un punto fondamentale In comune Essere al servizio Dei bambini del mondo La collaborazione Tra Kivanis e Unicef È un'iniziativa strategica Che contribuirà A salvare queste madri E i loro bambini E porre fine A questo tragico Spreco di vite umane Sono assolutamente convinta Che questo progetto Eliminate Salverà migliaia di vite Il progetto Eliminate Cambierà il corso Della storia 129 milioni Di madri E i loro bambini Sono ancora a rischio In 40 paesi del mondo Con il progetto Eliminate La loro vita Potrà essere salvata Sono molto fiero Di essere parte Di questo progetto Ho visto i risultati Tangibili Del nostro lavoro Ho visto le madri Uscire dall'ospedale Sono tutte molto felici Di ciò che fanno Per i loro figli Quindi partecipare A tutto questo È per me Una grande opportunità Nessuna famiglia Dovrebbe vivere L'angoscia Di vedere un bambino E una madre Morire di tetano Ora che il Kivanis E l'Unice Uniscono le loro forze Per eliminare il TNM Dalla faccia della terra Non è lontano Il giorno in cui Nessuna famiglia Ne soffrirà più Insomma 60 centesimi Per salvare La vita Di mamma e bambino Vuol dire insomma Che si può dare Una mano concreta Per superare Questo problema Si parla ovviamente Di 40 paesi Che coincidono poi Con la povertà Con i paesi più disagiati In questo caso Sì Di cui In 30 possiamo dire Che è stato debellato Ne mancano circa Una decina Che contiamo Di riuscire Insomma Contiamo Di arrivare al termine Forse fra un annetto Tante sono le iniziative Che si mettono in campo Perciò si sente spesso Parlare del Kivanis Che significa Che si muove molto Sul territorio Ma dall'altra parte Qual è la risposta Dei cittadini Delle persone A queste richieste Di aiuto È assolutamente positiva Perché tra l'altro Anzi In molti casi Siamo sensibilizzati Abbiamo richieste Di interessarci Di qualche cosa Che magari Non è Dove Dove le istituzioni Normalmente Non arrivano Così rapidamente E quindi Magari il nostro intervento Può sensibilizzare Anche La governance Diciamo così A occuparsi Di queste problematiche Nello specifico Oltre Le manovre Salvavita pediatrica Per esempio Abbiamo nominato Questa sera L'importanza Della chiamata Il 118 Stiamo già parlando Con i nostri Collaboratori Della Croce Rossa Per istituire Un corso Che riguardi Proprio L'istruzione Ai bambini Fin da piccoli Per Come Come Chiamare il 118 E quali sono le cose In quelle fasi Così Salienti Diciamo Per la vita Di una persona E come bisogna agire Sarà uno dei nostri Prossimi service Che probabilmente Metteremo in campo Con la Croce Rossa E allora Lo chiediamo proprio Alla dottoressa Orsini Ovviamente Questa è l'esperienza E si cerca Si cerca Di andare A colmare Quelle che sono Le lacune Dovute a Lungaggini Burocratiche A novità Insomma Poi La società Crea Delle situazioni Che spesso Non sono prevedibili Quando ci sono Si cerca Di mettere riparo Prima Dicevamo Finché non succede Nessuno si preoccupa Di non farlo succedere più Giusto In effetti Non si pensa mai Possa accadere O non si pensa Possiamo trovarci noi In certe situazioni In realtà Tutte le persone Parlando di bambini Con l'idea di Fare dei corsi O comunque Spiegare ai bambini Come anche agli adulti Come fare una corretta Chiamata di soccorso È importante Spiegare ad esempio Che dall'altra parte Di questo numero Che è il 118 Di emergenza sanitaria Ci sono degli operatori Che sono professionisti E che guidano Nelle azioni Quindi se anche io Sono in panico Non so che devo fare Loro faranno delle domande Loro mi aiuteranno Da giro a intervenire E la cronaca È piena di episodi Nelle quali Questi operatori Questi professionisti Hanno potuto guidare Teleguidare Ecco le azioni Di persone Che si trovavano In particolare difficoltà E poi Ecco Puntare sicuramente Sui giovani Sui ragazzi È sempre una Una scelta vincente Perché i ragazzi Sono più pronti Sono specialmente Ecco Noi abbiamo fatto Dei corsi informativi Sull'utilizzo Ad esempio Del defibrillatore Quindi rianimazione Cardiopolmonare Sull'adulto L'abbiamo fatto Nelle scuole Nel licei Per i ragazzi E le quinto Nell'ultimo anno E abbiamo visto Che c'è molto interesse Su queste cose Su queste attività Nei bambini più piccoli Ecco insegnare Anche intorno Ai 6 anni 7 anni A fare una corretta Chiamata al 118 Risulta essere Un qualcosa Che poi porta Un risultato Porta anche un risultato In termini di educazione civica Ed educazione sanitaria Quindi il corretto uso Di quelli che sono Gli strumenti Che sono al nostro servizio Per poterci essere D'aiuto Quando sarà Ovviamente Sono esperienze Che in qualche modo Vi mettono davanti A una situazione Di grande tensione Anche voi La vivete Cioè parliamo Di saper Mettere in atto Delle linee guida Di essere freddi Però si immagina Un minuto e mezzo Sì perfetto Per far arrivare Una persona A risolvere Un minuto e mezzo Una situazione Così drammatica Il corso Cosa prevede? Allora il corso Innanzitutto prevede Un rapporto Istruttori allievi Di 1 a 6 Proprio perché C'è il momento pratico Nel quale bisogna Dedicarsi All'applicazione Di queste manovre I corsi sono Questi corsi Certificativi Durano generalmente Dalle 3 ore Alle 3-4 ore Poi a seconda Diciamo Di come rispondono Diciamo Gli allievi E c'è una prima parte Un'oretta circa Di lezione teorica Dove di solito Vengono Al di là Dell'esposizione Della lezione Vengono fuori Le domande Le più disparate Su quelle che sono Le cattive abitudini Le consuetudini Che generalmente Vengono poste in essere In queste situazioni E poi c'è una parte Appunto pratica Vengono organizzate Delle isole pratiche Dove c'è un istruttore Con 6 allievi E dove vengono Praticamente Applicati Attraverso una metodica Di insegnamento Che ha fatto proprio La Croce Rossa Per gradi E il protocollo Viene applicato Questo protocollo Per cui Si parte Dalla rianimazione Cardiopolmonare Nel tappediatrica Nel bambino E nel lattante E si passa poi Alla Alla disostruzione Pediatrica Quella parte Che abbiamo fatto Vedere prima Che poi si ricollega Anche alla rianimazione Stessa Qual è stato Il caso più Incredibile Nel quale Ha dovuto Insomma Mettersi in azione Abbiamo sentito Prima uno dei vostri colleghi Che diceva Che poi ovviamente Questa è la normalità Io era a cena Con degli amici Dietro di me Avevo messo gli occhi Insomma c'era un bambino Che faceva Delle cose strane Con la pizza A un certo punto Qualcosa è andato di traverso La mamma Ha avuto un istinto Terribile E lui l'ha fermata Sì Dunque A me è capitata Una cosa analoga Eravamo su quel trenino Che gira per pescare A Natale Qualche Natale fa C'era il trenino Con mio figlio E sentivo C'era dietro di me Una mamma Con un bambino Avevo avuto Tre, quattro anni E a un certo punto Comincio a sentire Questo bambino Che ha un respiro Molto più pesante L'orecchio Mi è andato a questo rumore E mi giro E vedo che lui Cercava di tossire Però aveva questa caramella Non so E la mamma Stava per fare La stessa identica cosa Stava cercando Spammentata Di mettere le mani Nella bocca Del bambino E io Le ho detto Sì, aspetti Lo faccio tossire Infatti il bambino Insistendo con la tosse Si è poi Sostanzialmente Ha risolto da solo Il problema Probabilmente Non so come sarebbe andata Però è stato Ecco un episodio Che mi ha fatto Mi ha lasciato Un po' Mi ha lasciato un po' Pensare Perché? Perché Perché il panico Fa più vittime Del non sapere Cosa fare A volte il panico Annebbia la testa Annebbia la mente Non ci consente di ragionare E quindi ci spinge A fare azioni sbagliate Che ovviamente Vogliono essere fatte A fin di bene Ma che possono produrre Un risultato nefasto Assolutamente nefasto Presidente Facciamo un appello Per chiedere a tutte Quelle persone Che poi hanno La responsabilità Di avere vicino Un bambino Come contattare Il Chivanis Ricordare Quanto è semplice Soprattutto Insomma Quella che è L'utilità Dunque Intanto possono Se si può collegare In rete Ormai Internet Dominio Di tutti Sul nostro sito www.chivaniscleb.it Pescara Ternum Chivaniscleb.it E lì possono Prendere contatto Con noi Tramite email Noi pubblicizzeremo Questa cosa Per la raccolta Delle adesioni E daremo anche I numeri di telefono E quant'altro Oltre ovviamente La solita mail Cosa importante Qual è la soddisfazione Più grande Che avete avuto In tutte queste esperienze Voi che organizzate Vi preoccupate Di far funzionare le cose Da un lato C'è La richiesta Da parte di persone Che quando sanno Di questi nostri service Ci dicono sempre Ma possiamo venire Anche noi Ci interessa anche a noi Anche qualcosa Che magari Non li riguarda direttamente Quindi questo interesse Verso una cosa Che viene percepita Come una cosa Di utilità pubblica Per tutti E dall'altro Anche situazioni Del tipo Persone Che ci dicono Abbiamo fatto questo corso E guarda caso Mi è capitato Ma non magari O a casa mia O il mio vicino O mi trovavo Da qualche parte E ho messo in pratica Queste cose Questa è la nostra Più grande soddisfazione Che significa Che in qualche modo Viene fuori il fatto Che le persone Cercano queste iniziative E sentono la necessità Sì assolutamente Noi siamo partiti Con questo corso Che non prevedevamo Di allargare E ovviamente Le richieste sono tante E stiamo pensando Di farlo Di fare in modo Di raccogliere Noi stessi Le adesioni E non demandare Alle scuole E quindi soltanto Agli insegnanti Docenti Ma allargarlo Un pochino A tutti Allora Noi ovviamente Ricordiamo L'iniziativa Importante E soprattutto Sollecitiamo Anche la partecipazione Perché anche a noi È successo Di fare Delle trasmissioni Proprio Su questo argomento E di ricevere Delle mail Tra le lacrime E i sospiri Di chi Era riuscito Davvero A mettere In sicurezza Un bambino E queste per noi Insomma Sono soddisfazioni Come sono per voi Perciò abbiamo detto Tutto quello Che è a nostra disposizione Ovviamente è possibile Rivedere la puntata Sul nostro canale Youtube Che è quello di TV6 Io ringrazio tantissimo L'ingegner Franco Coletti Il presidente Del Chivanis Club Pescara Ternum Per essere stato con noi Ringrazio tantissimo Alla dottoressa Maria Assunta Orsini Lei è la referente Regionale Per la formazione Della Croce Rossa Italiana Perciò insomma Parliamo di persone Che hanno questo impegno Da tanto tempo E poi sanno Come si fa Perciò Vi ringrazio E soprattutto Ripetiamo L'invito A seguire queste iniziative Perché sono veramente Importanti E come avete sentito Raccontare Cambiano in pochi secondi Il destino Di un bambino In questo caso Perciò vi ringrazio Di essere stati con noi Grazie per l'ospitalità Allora Conclusa la puntata Per noi l'appuntamento Invece la prossima settimana Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti